Muraro recupera un pallone, lo fa filtrare da destra, mischia, tocco prima di Monelli e poi decisivo di Novellino. Vantaggio per l'Ascoli. Pesaula fa il lavaggio del cervello ai suoi nell'intervallo e nel secondo tempo il Napoli finalmente si sveglia. Al nono pareggia. Diaz si destregge in area, si inserisce Criscimanni che tira. Muraro respinge ma Criscimanni insiste e stavolta fa centro. Fra il capitano Ascolano e Castellini ci sono almeno 25 metri. Nevecchi tira, Castellini sta a guardare ma palla finisce l'incrocio dei pali.